E ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, qui è Pablo Giallorosso Allora, prima di cominciare a parlare dell'argomento di questo video vi invito ovviamente a iscrivervi al canale, mi raccomando, è una nota fondamentale perché dobbiamo arrivare tutti insieme ai 10.000 iscritti il prima possibile Poi seguitemi su Instagram, PabloGiallorosso-official Ieri sera, intorno alle 11, Sky ha riportato questa notizia ovvero ha accostato Maurito Icardi alla Roma Allora, c'è chi magari dice che la Roma abbia smentito che magari sia stata l'Inter a offrire e la Roma abbia rifiutato oppure viceversa Va bene, sono tutte cose importanti ma oggi non ci interessa Oggi analizziamo i pro e i contro a un eventuale acquisto di Mauri Icardi perché è un argomento delicato Io credo che Icardi andrà via dall'Inter anche perché stanno cercando molti centravanti a parte già con l'Inter sta in trattativa per ciò che si dice anche con Lukaku Insomma, hanno deciso, tra virgolette, di mandare a quel paese Icardi per vari motivi, magari anche giusti visto tutto il casino che si è creato quest'anno praticamente sia per colpa dei Icardi sia della società che deve andanare Insomma, tutti hanno un po' dei colpi E questo è il motivo per cui io sono molto scettico Non metto in dubbio le qualità di Mauri Icardi tant'è che io ho sempre esaltato questo centravanti Spesso dicevo, magari quando facevo il post partire dell'Inter segnava Icardi Io dicevo, ancora che lo criticate Sto poraccio, ma a parte quest'anno ha sempre segnato tanti tanti gol Ok? È sempre stato decisivo È giovane Quindi, insomma Cioè, all'epoca era giovane Ma è normale E quindi, ragazzi Non metto in dubbio le qualità di questo centravanti argentino L'unico problema è la capoccia È l'atteggiamento Io ho paura che in un ambiente come Roma Il suo carattere Parlo ovviamente di tutto il casino che si è creato quest'anno anche con Vandanara Possa avere maggior eco Cioè, Roma è una piazza sensibile Dove la minima polemica diventa l'inferno Diventa l'apocalisse Questo è il mio scetticismo Questo è ciò che mi incute timore E perciò io sono abbastanza Voglio essere delicato Voglio prendere la situazione con le pinzie Con le pinzie, no con le pinzie Con le pinzie E il punto qual è, ragazzi? Beh, io come profilo Un centravanti come Icardi Lo prenderei Cioè, ovviamente Passare da Geko che ha 33 anni A Icardi Tu guadagni Tu ci guadagni Non la togliere a Geko Lo amo Cioè, per me Io l'ho detto E lo dicevo Per me Geko Quando è in forma Quindi Parlo di due anni fa Di tre anni fa È più forte di Icardi Perché è un giocatore più completo Ma questo ci potrete indicare un video Per vari motivi Ma qui non è che sto a far paragoni Non mi interessa Però è logico Che al momento Icardi Eh, grazie Ti garantisce Ovviamente più futuro Cioè, io dissi sempre Ho sempre detto Per me Geko è più forte di Icardi Ma in prospettiva Icardi può diventare più forte di Geko Semplicemente anche perché Geko per me è più completo E ha dimostrato già il suo valore In campo internazionale Cosa che Icardi non ha mai fatto Visto che ha fatto un solo anno di Champions League Ovvero Questa stagione appena conclusa con l'Inter Io, ripeto Come giocatore Icardi lo prenderei Giovane, forte Cioè, serve Cavolo Il problema Sono le questioni extra calcistiche Extracampo No calcistiche Perché c'entra sempre Il mondo del campo Ragazzi Se Vanda Nara Si mette a fare prima donna Qua a Roma Ma sapete il casino che succede? Io so pure di questo È anche vero Che non avrà tutte queste responsabilità Come all'Inter Cioè, non è che viene a Roma Ed è capitano E quindi rischi che perda la fascia E quindi che perda importanza Cioè, arriva qui Da giocatore normale Non ha il rilievo Che aveva l'Inter Quindi questo può Può essere un punto a favore Perché magari non ci saranno Delle basi Per 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 scaturire delle critiche Per far nascere delle critiche Del Del casino Che può far Vanda Nara Questo è l'unico problema La mia paura È che possa succedere Un casino Che possa spaccare Lo spogliatoio E Roma soffre molto di questo Quando avviene una cosa simile Fa molto più Rilievo Fa molto più rilievo Fa molto più scalpore Rispetto all'altra società Questa è l'unica Mia preoccupazione Poi Oh Magari c'è Casca Però Volevo fare un video Per chiedere bene In questa situazione Non penso Però a Mycardi Non penso che l'Inter Veda un giocatore Così forte In Italia O poi magari C'è Cascano Però Sperando Ovviamente Che Vanda Nara Insomma Tacqua un pochetto Allora Penso che questo Lo posso vedere qui Lascia un like Un commento Iscrivetevi Da Pablo Giotto Questo è tutto Adios